Stamattina due infortuni, diversi traumi per un lavoratore di un cantiere a Iselle, gravemente ferito un uomo che tagliava piante a Caprezzo. Denunciò i posti inerenti al nazismo pubblicati dalla detta stampa del Comune, assolta dall'accusa di diffamazione Flavia Filippi. Necessità di una barca antincendio e carenza di personale, i temi al centro dell'incontro del sindacato dei Vigili del Fuoco con il prefetto. La festa di San Gaudenzio a Crusinallo di Omenia con il restaurato campanile e la tradizionale gara della Verza. Dieci anni fa venne trafugata la salma di Mike Bongiorno dal cimitero di Daniente, ritrovata nove mesi dopo. Riflettori puntati sul Novara con il giornalista Marco Foti nella nuova puntata di Dilettanti per Diere. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie in apertura di giornale La Cronaca con i due incidenti che si sono verificati questa mattina ai danni di due uomini a Iselle e a Caprezzo. Vediamo quanto è accaduto in ossola. Incidente sul lavoro questa mattina a Iselle di Trasquera è successo all'interno di un cantiere sul gherito del torrente di Veria. Qui l'impresa Dresco sta realizzando una centralina idroelettrica per cause al vaglio del funzionario dello Spresal dell'Asla del VCO un sessantenne compiendo un volo di circa sette metri. L'operaio è atterrato nel fiume sottostante riportando diversi traumi. Lesioni giudicate subito serie dal medico del 118 intervenuto sul posto. Per questo motivo l'uomo, residente con la famiglia Buttonio di Santa Maria Maggiore, è stato elitrasportato al CTO di Torino dove i medici si sono riservati la prognosi. Le sue condizioni vengono definite serie. A dare l'allarme attorno alle 10 alla centrale del 118 è stato l'altro operaio che stava lavorando all'interno del cantiere di Iselle. L'eco di quanto accaduto nel pomeriggio è arrivato in Valle Vigezzo dove il sessantenne vive con la moglie e i figli. Sul luogo dell'incidente, oltre allo spresal, anche i carabinieri di Varzo, volontari del soccorso alpino e squadra dei Vigili del Fuoco di Verbagna e Domodossola. Ed ora andiamo a Caprezzo. Il sessantenne è stato elitrasportato all'ospedale di Novara. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Novara un uomo di 60 anni rimasto gravemente ferito mentre tagliava una pianta. È successo a Caprezzo, intorno alle 13. L'uomo si trovava in località Mondavis, sopra il centro del paese della Valle Intrasca, dove ha una baita. Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, la pianta era assicurata con i tiranti ma purtroppo si è rotta prima che finisse di tagliarla e il tronco gli è caduto addosso. Il sessantenne è finito in una scarpata. Soccorso è stato trasportato dall'elicottero del 118 a Novara con una sospetta frattura del bacino. A Caprezzo, dove l'uomo è molto conosciuto, la preoccupazione è grande. Ed ora torniamo su una vicenda che risale al febbraio 2019. Flavia Filippi, ex sindaco di Belgirate, era finita a processo per aver denunciato in un posto su Facebook il fatto che la detta stampa del Comune aveva pubblicato sul proprio profilo social due post che riteneva inneggianti al nazismo. Si era scatenata una bufera mediatica a livello nazionale. La Filippi era stata querelata nella settimana della giornata della memoria. La stessa è stata assolta. Denunciò i post inerenti al nazismo pubblicati dalla detta stampa del Comune, assolta dall'accusa di diffamazione aggravata l'ex sindaco di Belgirate, presidente dell'Ampi del Vergante, Flavia Filippi. Stamattina si è conclusa la vicenda giudiziaria iniziata nel febbraio 2019. Filippi è finita a processo per aver denunciato in un posto su Facebook il fatto che la giornalista pubblicista Veronica Galluzzo, recentemente nominata a detta stampa del Comune di Belgirate, aveva pubblicato sul proprio profilo social due post che la Filippi riteneva inneggianti al nazismo. In uno compariva la foto del cancello d'ingresso del campo di sterminio di Buchenwald e nell'altro, pubblicato ad aprile in concomitanza con il compleanno di Hitler, una foto di una torta con una svastica e una scritta di auguri al nostro Führer. Si era scatenata una bufera mediatica di rilievo nazionale, tanto che il deputato del PD Enrico Borghi aveva presentato un'interrogazione all'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini. La giornalista aveva querelato Filippi per diffamazione aggravata e la procura di Verbagna l'ha rinviata a giudizio. Oggi davanti al giudice Annalisa Palomba, Filippi ha raccontato la propria verità, spiegando di aver scritto per l'indignazione provata leggendo quei post sulla pagina di chi si sarebbe dovuta occupare di comunicazione pubblica per conto del Comune. Volevo attaccare l'amministrazione, ha spiegato, non ho nemmeno fatto il nome della giornalista, non potevo stare zitta. Ricordo che per due anni l'amministrazione non aveva voluto celebrare il 25 aprile una ferita per un Comune che ha due medaglie d'oro per la resistenza. Galluzzo si è costituita parte civile al processo con l'avvocato Claudio Teruggi, che ha evidenziato come la difesa di importanti valori non possa diventare un attacco a una persona, sottolineando come la giornalista abbia dovuto rinunciare a quell'incarico e poi abbia avuto gravi conseguenze nella sua vita professionale e personale. L'avvocato difensore Cagno di Miglia, ricordando la vicinanza della giornata della memoria, che è tra due giorni, ha rilevato come già il fatto che la signora Filippi sia finita a processo è abnorme. Mi risulta che sia la prima volta che una persona viene mandata a processo perché si è permessa di criticare delle foto legate al nazismo. Mi sarei aspettato che la procura facesse degli approfondimenti su quelle foto, dato che c'è la legge Mancino, ma non ho trovato nulla di questo nel fascicolo. La PM Maria Portalupi ha chiesto la condanna dell'imputata a una multa di 600 euro. Il giudice Palomba ha deciso per l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato. E siamo agli ultimi aggiornamenti sul coronavirus. Nel VCO un nuovo decesso, 31 nuovi positivi e 37 guariti. Anche nel Novarese un nuovo decesso covid positivo, 41 contagiati e 70 guariti. A livello piemontese i nuovi contagi sono 600, pari al 5,8% dei 10.313 tamponi eseguiti, 21 nuovi decessi, 707 guariti. Crescono i ricoverati in terapia intensiva in Piemonte, più 7 rispetto a ieri, in totale 163. Crescono anche i ricoverati nei reparti ordinari, più 19 in totale 2.364. Isolamento domiciliare per circa 10.600 persone. E al termine della riunione settimanale del comitato direttivo del DIRMEI è arrivato il via libera dell'unità di crisi alla ripresa parziale degli interventi chirurgici, delle visite, degli esami programmati, finora sospesi a causa dell'emergenza covid. Stiamo facendo tutto il possibile per garantire il graduale ritorno alla normalità delle prestazioni ospedaliere. Molto dipende dall'antamento dell'epidemia, osserva l'assessore regionale alla sanità Icardi. Non possiamo forzare la mano sulla sicurezza degli ospedali che hanno retto all'impatto della pandemia compiendo giganteschi sforzi di adeguamento alle necessità dell'emergenza. Nello stesso tempo abbiamo però lavorato a liberare il più possibile gli spazi e le risorse professionali per le attività ambulatoriali e chirurgiche procrastinabili. Oggi siamo in grado di dare un segnale importante di ripresa compatibilmente con la specifica situazione delle singole aziende sanitarie locali. Gli indirizzi sulle modalità della ripartenza verranno disposti in questi giorni dal DIRMEI e poi trasmessi alle aziende sanitarie. Ed ora l'incontro del sindacato dei Vigili del Fuoco Conapo con il prefetto Sidoti. Due temi all'ordine del giorno. Carenze di organico e la necessità di un'idonea imbarcazione antincendio sul Lago Maggiore al momento assente, questione annosa. Sono le principali tematiche affrontate nel corso dell'incontro presso la prefettura del VCO tra l'inquilino di Villa Taranto Angelo Sidoti e la segreteria del sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco Conapo. Al colloquio erano presenti il segretario regionale Piemonte Claudio Cambursano, il vice Alessandro Basile e il segretario provinciale Alberto Antoniazzi. Rispetto alla mancanza dell'idonea imbarcazione antincendio è stato sottolineato che questo comporta una grave carenza operativa nella flotta odierna, soprattutto in circostanze riguardanti incendi di grosse imbarcazioni turistiche e private. Il prefetto si è dimostrato molto sensibile alle problematiche esposte, spiega Antoniazzi, accogliendo con interesse le nostre recriminazioni e facendosi da portavoce con chi di competenza. Chiesto dalla segreteria del sindacato un approfondimento della tematica anche al governatore Cirio e alla giunta regionale, in quanto considerata prioritaria per salvaguardare l'incolumità dei turisti e non solo del lago. Altra segnalazione riguarda la grave carenza di organico di personale relativo alle figure direttive, nello specifico la mancanza di ispettori antincendio che nei prossimi mesi raggiungerà il 100% di carenza per via dei pensionamenti. Anche in questo caso piena collaborazione del prefetto nel segnalare al Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Protezione Civile la problematica. Infine, da Sidoti, complimenti per l'attento lavoro che i Vigili del Fuoco stanno svolgendo sul territorio. È stato abbattuto il cervo rimasto infilzato sulla recinzione di una casa a Crodo, in Valle Antigorio. Troppo gravi le ferite riportate dall'animale. è il settimo ungulato che muore a causa delle recinzioni di orti e villette in tempi recenti. Gli altri episodi si sono verificati a Varso, Premia, Bognanco e uno nel Verbano. Spinti dalla fame, gli animali si avvicinano a siepi e piante per mangiare e finiscono infilzati con lunghe sofferenze e patimenti. Ora la Polizia Provinciale del VCO chiede a proprietari di recinzioni e ai comuni di intervenire. I proprietari, dice Riccardo Maccagno, responsabile della Polizia Provinciale, possono posizionare accorgimenti che impediscano agli animali di finire trafitti e i comuni mettere nei propri regolamenti comunali il divieto a realizzare recinzioni con terminali appuntiti o comunque pericolosi per gli animali stessi. E non solo, evitiamo perdite importanti al patrimonio faunistico e soprattutto le gravi sofferenze a cui sono costretti gli animali infilzati. Nel fine settimana l'evento online promosso dal Comitato Tutela D'Evero in occasione delle 100.000 firme raccolte contro il progetto Avvicinare le Montagne. Una ventina i relatori, c'era anche il Presidente nazionale del CAI. L'Alpe D'Evero è un paradiso e il Club Alpino Italiano deve condividere totalmente la posizione di quelle 100.000 firme che stanno facendo un bene enorme, tutelando qualcosa di prezioso in un modo corretto. Così Vincenzo Torti, Presidente Generale del CAI, intervenuto all'evento online La Carica dei 100.000, promosso lo scorso sabato dal Comitato Tutela D'Evero, che ha già raccolto 103.000 firme per contrastare il progetto Avvicinare le Montagne, che prevede nuovi impianti turistici. Sono interessate due vallate dell'Ossola, il D'Evero e la località scistica di San Domenico, nella vicina Valle di Vedro. La difesa dell'Alpe D'Evero non è un fatto ideologico, ha poi affermato Vittorio Cogliatidezza, ex Presidente di Lega Ambiente. È una visione di futuro, che riguarda anche il diritto delle persone che abitano la montagna di poter continuare a viverci. Citando l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, ha poi ricordato l'assoluta necessità del mondo di oggi, fortemente interdipendente, di tener conto dell'ecologia integrale, in cui la dimensione della natura e dell'ambiente si collega ai bisogni della società. Secondo la parlamentare Rossella Muroni, Vice Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera, occorre partire dall'idea che si può fruire la montagna e la natura senza passare per l'infrastrutturazione pesante e dallo stravolgimento del paesaggio. Al dibattito è intervenuto una ventina di relatori, a sostegno della salvaguardia della concalpina dell'Alta Ossola. L'evento si è concluso con la testimonianza di Michele Galmarini, gestore del rifugio CAI Enrico Castiglioni, presso l'Alpe D'Evero. Nascere e vivere all'Alpe D'Evero ti porta a fare attenzione all'ambiente in cui vivi. Dovremmo essere tutti ambientalisti, perché D'Evero è un posto dove non c'è niente, ed è proprio questo niente che lo riempie di bellezza e significato, rendendolo famoso anche all'estero. A Casale Cortecerro, pace fatta tra maggioranza e opposizione dopo le pesanti schermaglie dei mesi scorsi, è stato diramato un comunicato congiunto. Le turbolenze degli scorsi mesi sono un ricordo, pace fatta in affatti a Casale Cortecerro tra la maggioranza del sindaco Claudio Pizzi e l'opposizione guidata da Fabrizia Maggiola. Rimangono le differenze ed i punti di vista opposti su tanti temi, ma finalmente minoranza e maggioranza hanno fatto l'una un passo verso l'altra. E così dopo le schermaglie che erano sfociate nella clamorosa protesta da parte dei consiglieri di minoranza di disertare le sedute del Consiglio Comunale, le due parti hanno diramato un comunicato stampa congiunto per annunciare che a partire dalla prossima seduta del parlamentino casalese, gli esponenti della minoranza torneranno a sedersi tra i banchi. Con senso di responsabilità reciproca, hanno sottolineato il sindaco Claudio Pizzi e la capogruppo Fabrizia Maggiola, dopo gli ultimi mesi di incompressioni, abbiamo deciso, a seguito di alcuni incontri formali, di superare le divergenze in essere per il bene della nostra comunità. Si potrà così nuovamente instaurare un clima collaborativo alla luce delle importanti e delicate questioni economiche e sociali derivanti dalla pandemia in atto, che dovranno essere affrontate in maniera collegiale nei prossimi mesi. Oggi si è viaggiato a senso unico alternato sulla statale 33 del Sempione tra Belgirate e Stresa, precisamente tra Villaggio Bezzi e San Giovanni per un taglio piante programmato in un parco di una villa privata adiacente. La strada, il senso unico, proseguirà anche domani, martedì, e sarà in vigore sino al termine dei lavori del taglio di alcune alberature che erano state classificate come pericolose dalle perizie. E dieci anni fa veniva trafugata la bara di Mike Bongiorno dal cimitero di Daniente, frazione di Arona, e stata ritrovata nove mesi dopo. Dieci anni fa privamo le edizioni del nostro Tg con la notizia del trafugamento della bara con la salma di Mike Bongiorno. Nella notte tra il 24 e il 25 gennaio del 2011, quattro individui ancora ignoti spezzarono la lasta dell'oculo della tomba di famiglia Zuccoli Bongiorno nel cimitero di Daniente e asportarono la bara. Salirono dal retro del cimitero attraversando una vigna. Nel loro passaggio lasciarono le tracce. Caricarono il tutto su una station wagon scura che venne intercettata dalle telecamere prima di Massino Visconti e poi dalla barriera autostradale di Gallarate. Sul colle per oltre una settimana soggiornarono giornalisti, fotografi e operatori tv di testate nazionale ed estere. Le indagini si rivelarono da subito complesse. Arrivarono anche richieste di riscatto da parte di ciacalli, due dei quali presi e condannati. Mike aveva scelto Daniente per i suoi riposi estivi, una sorta di buon ritiro nella residenza estiva della moglie Daniela Zuccoli. Per questo il re del Quiz scelse il piccolo cimitero anche per il suo riposo eterno. Il decesso l'8 settembre del 2009 ha 85 anni per un malore nella residenza di Monte Carlo. Il funerale era stato celebrato in Duomo a Milano, l'ultimo saluto nella cappella della villa, poi la tumulazione nella tomba di famiglia accanto alla madre Enrica Carello. Un anno e mezzo dopo la violazione della tomba. Il popolare presentatore fece così parlare di sé a lungo anche da morto. Il ritrovamento nove mesi dopo da parte di un uomo che passeggiava con il cane in un fontanile del comune di Vituone in provincia di Milano. La barra era intatta, nemmeno un graffio, poi la cremazione per volontà dei familiari e lo spostamento al cimitero di Torino in zona sorvegliata. La festa di San Gaudenzio a Crusinallo di Omenia nell'occasione anche l'inaugurazione del ristrutturato campanile. La festa di San Gaudenzio a Crusinallo quest'anno ha avuto un sapore del tutto particolare perché è coincisa dopo due anni di lavoro con il restauro del campanile. Un bello evento per la comunità di Crusinallo, Alessio. Dopo due anni di lavori reali dal mese di agosto fino al mese appena passato e ringraziando in particolare non solo i privati che hanno aiutato con sovvenzioni e offerte ma anche la fondazione comunitaria VCO, la fondazione CRT e la fondazione Carriplo che attraverso alcuni bandi ci hanno aiutati ad arrivare a questo obiettivo. I lavori si sono svolti a regola con il benestare della soprintendenza. Questa è tutta l'occasione anche per chi non è di Crusinallo per scoprire una singolare tradizione, quella della verza in bella vista. Tra l'altro quest'anno si è cercato anche di fare un po' di ironia perché a vincere è stata la verza virus. Il coronavirus ha ispirato anche l'arte e la fantasia delle casalinghe e delle signore di Crusinallo. Ma come è nata? Perché questa tradizione così particolare? La tradizione della verza in bella vista a Crusinallo si perde nella notte dei tempi, quindi è una tradizione molto antica legata a quelli che sono i frutti della terra del periodo invernale. Si ricorda che la verza è la tipica verdura, frutta di questa stagione. ed è legata anche alla tradizione di San Gaudenzio che è il mercante della neve e al miracolo dei fiori, che ricorda il fiore che Novara ogni anno, la città di Novara offre al suo santo patrono. E quindi ogni anno c'è qualcuno che con la fantasia si sbizzarrisce a rendere bella questa verza e quindi partecipare a questa gara molto particolare. Prima riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Baveno dell'anno scolastico 2020-21 eletto il sindaco del CCR, Viola Massera. Già individuati alcuni progetti, tra questi la necessità di una copertura esterna per entrambi i plessi scolastici di Baveno e Ferriolo, la realizzazione di un parco con rampe per skate e pattini nell'area limitrofa, il campo da basket, migliorie ai parchi aggiungendo fontanelle potabili, eccessini per l'immondizia, accessi per disabili o ve mancanti, riorganizzare le spiagge con la creazione di una aperta anche ai cani e una piattaforma dove siano consentiti tuffi, giornate e iniziative dedicate ad ambienti, aiuto agli anziani contro il bullismo e per la socializzazione. E al Via Domani, modalità online, la scuola di politica promossa dai giovani di Fratelli d'Italia, Verbania, prima serata con Elena Chiorino. Una scuola di formazione politica, la lancia Fratelli d'Italia del Verbano Cusiossa, di che cosa si tratta? Io da tempo dico ai nostri ragazzi che la politica deve avere alla base un presupposto culturale, è un'idea chiara e allora da questa esigenza, da questa necessità nasce il nostro desiderio di offrire uno strumento ai nostri ragazzi di crescita e di formazione per il loro futuro politico e amministrativo. Il gruppo dei giovani di Verbania ha scelto, votando con democrazia, le persone che avrebbero tenuto questi tre incontri che sono l'assessore regionale al lavoro Elena Chiorino, il senatore Gaetano Nastri, vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera e il capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, l'onorevole Carlo Fidanza. Terranno questi tre incontri strutturati appositamente per amministratori e giovani, aperti al contributo di tutti i nostri iscritti. La nostra programmazione nuovo appuntamento settimanale domani martedì alle 14.30, 15.30, 16.30 e alle 22 con la storia locale, il docente dell'Uni3 di Arona Marco Zacchera, vediamo di cosa si occuperà. Ci ritroviamo anche questa settimana a parlare di storia locale, la puntata di questa settimana è dedicata all'Alto Medioevo, quel periodo un po' oscuro che va dai tempi di Carlo Magno fino al 1223 quando i nuvaresi distruggono Pallanza e cercheremo di conoscere un po' e ricordare un po' i fatti che sono successi dalle nostre parti in quei quattro secoli. La pagina sportiva in apertura alla vittoria della Paffoni a Imola. Quarta vittoria consecutiva per la Paffoni che si impone 83-79 al Palaruggi di Imola dopo un tempo supplementare e si rilancia in classifica rilanciando le proprie ambizioni. Una vittoria arrivata alla termine di una partita strana in cui i padroni di casa, pur privi di due giocatori importanti come Sgorbati e Quaglia, se la sono giocata alla grandissima per 45 minuti. In partenza razzo infatti dei biancorossi che senza pressione con tanti giovani sul parquet aprono il fuoco specialmente dall'arco e al primo riposo sono avanti 23-15 trascinati dal dimenso Fulza. Nel secondo quarto si iscrivono al match Prandin e Balanzoni e in un amen la Paffoni impatta la situazione al riposo e parità assoluta. A quota 40 nel terzo quarto la Fulgor riparte e sembra poter scappare. I rossoverdi Nefarti volano sul più 12 con un dardo di Scali. Procacci tripla ed entrata, anche lui si iscrive al match e per la Paffoni la partita sembra davvero in discesa. Non è così perché Preti, Fulz e Tofali in un amen riportano Imola in linea di galleggiamento. Diventa il match un colpo su colpo da una parte e dall'altra. Si arriva ad un finale davvero pirotecnico con la Paffoni che ha due volte la palla della vittoria con Sgomba che sbaglia da sotto e poi della testa non riesce a fare il bis uscito contro Rimni. Così si va alla supplementare dove non segna nessuno per tre minuti. Corcelli colpisce dall'arco e porta i suoi a più tre. La Paffoni è in difficoltà ma viene presa per mano da Maurizio del testa. Prima una gran cadastro in penetrazione alla Iuzzolino. Poi dopo il 2 su 2 di Fulz una tripla seguita a un suo errore dall'arco dei 6.75 per il pareggio della Paffoni. Del testa recupera, si butta in difesa e aziona il contropiede di Artioli per il più due. Imola dalla lunetta sbaglia con Preti, Prandini e del testa invece non lo fanno. Vince Omenia. 83-79 Ed ora le anticipazioni della nuova puntata di Dilettanti per dire che vi aspetta come sempre stasera alle 20.35 ancora domani martedì alle 13 alle 17. Appuntamento con la Dilettanti per dire. Una puntata in cui parleremo della crisi sempre più nera, sempre più cupa della Novara invece del Gozzano che sta volando. Ha un pareggio importante a Sesti delle difficoltà del Borgosesia. Lo faremo con i consueti collegamenti con Guido Ferraro, con il presidente del Gozzano Fabrizio Lanardi, immagini e interviste. E lo faremo con il collega amico Marco Foti, profondo conoscitore delle vicende azzurre. È il momento, Marco, più difficile del Novara negli ultimi 20 anni? Sicuramente, buonasera Daniele, buonasera a tutti, sicuramente è il momento più difficile a memoria d'uomo vivente. Perché ho tempi così difficili, io non li ricordo. Ma se ne può uscire o bisogna già veramente essere rassegnati? La rassegnazione è quella che sta pervadendoci, ma dobbiamo fare in tutti i modi, innanzitutto noi, fare in modo che non ci prenda completamente. Bisogna credere all'imponderabile, perché di questo si tratta, provare disperatamente ad inseguire una cosa complicatissima, difficilissima, ma ancora possibile. Perché se guardi la classifica, in realtà non è drammatica. Poi se studi i numeri e le dinamiche, lo scoramento prevale. Con o senza banchieri? Io non vedo un'altra persona, o qualcuno, se ha il nome di qualche persona, che possa fare meglio di banchieri in questo momento, o meglio, che possa accettare di venire a Novara in questo momento, a meno che non sia più matto di banchieri, io questo nome non ce l'ho. Quindi teniamoci stretti i frati che abbiamo adesso per fare questa messa difficile. Altri non ne vedo. Di questo, dunque, parleremo qui a direttanti per dire, tra poco. Siamo in chiusura, vcoazzuratv.it e le nostre pagine social per gli aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi.